Il sole del primo giorno d'estate splende sul mare di Chiavari e sul nuovo tratto di passeggiata, tra Piazza Gagliardo e la Torre Fara, inaugurato questo pomeriggio alla presenza delle istituzioni e di tanti chiavaresi presenti, che attendevano da anni quest'opera. Il lungomare ha due intitolazioni. Il primo tratto, arrivando dalla piazzetta dei pescatori, è il lungomare dei Gottuzzo, costruttore di navali, dai cantieri di navali Gottuzzo, che erano collocati proprio in quella porzione di arenile, tra i primi dell'Ottocento e il 1935. Qui tre generazioni di Gottuzzo hanno costruito qui, proprio in questa zona, 150 velieri oceanici, tutti catalogati da Rina. Io ho fatto ricerche presso il registro navale italiano e li ho trovati tutti, ma non ho trovato solo i 150 varati dai Gottuzzo, ne ho trovati altri 100 che sono stati costruiti sia in via dai velieri, sia qui direttamente sulla piazza. Anche i Gottuzzo, anzi, hanno cominciato a costruire nel 1830 circa qui sulla piazza, perché prima non esistevano questi cantieri, questi cantieri sono venuti dopo. Il secondo tratto, poi, che conduce fino alla Torre Fara, è stato invece intitolato agli esuli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia, in memoria proprio di quelli che sono stati ospitati nell'edificio chiavadese. Nella colonia Fara, a diverse riprese, furono ospitati più di 4.000 esuli, però più di 400 persone non ci stavano, perché cambiavano in continuazione. Tantissimi, mi ricordo, sparivano dove andavano, o in Nuova Zelanda o in Australia. Comunque sono stati oltre 4.000, credo che arrivassero quasi a 5.000. Erano in condizioni molto precarie, perché non c'erano camere o servizi come si deve. È una colonia che è stata costruita per i bambini, perciò erano tutti cameroni. E loro avevano dovuto mettere delle coperte legate con dei fil di ferri che separavano una camera dall'altra. Però era una situazione, per fortuna, che non durava moltissimi anni, però qualche anno spesso durava.